Divertimento, divertimento Hanno la Gone to Window per l'ennesima volta Sia mai che gioco da Killer Non hanno la Gone to Window questi qua Ma questo vuoi giocare sotto il God Wind, cazzo No, questo vuoi giocare sotto il God Wind Non spero di farlo capire Ah, lollo, ok Eh, stavo anche un po' perché Devo vedere un video per capire dove lì che devo andare Quindi, un video faccio Dai, non so' serio? Ok, a quanto pare Ok, the dart user Ah! Ah! Uh! Ah! 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 Ah Ah Sì, sì, sì! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Okay. 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 ah dopido non ti salva Ah Ok. Eccolo l'astarto Wow, wow